Inizio subito con dei ringraziamenti al padrone in casa e al malvato che insieme alle suoni e a tutti i volontari hanno permesso la realizzazione di questo concerto. Questa sera alla Pieve un concerto importante e a favore di Casa Teveni. Un concerto per la pace, un concerto importante a favore di Casa Teveni grazie al coro e all'orchestra di Norimberga. Due realtà che soggiornano ad Arezzo da cinque giorni, hanno fatto concerti alla Catedrale di Perugia, a Pisa, domani saranno a Todi e questa sera allietano le nostre orecchie con un bellissimo concerto e la cui premessa è il coro ucraino proprio perché è un concerto per la pace in questo momento storicamente drammatico. Un concerto per la pace, un concerto per la pace. Abbiamo festeggiato 150 anni di attività, negli ultimi anni sicuramente abbiamo dato un nuovo slancio, abbiamo riportato e riposizionato Casa Teveni perché è una realtà che aiuta ragazze e madri, adolescenti, donne vittime di violenza, donne comunque in situazioni di disagio. Gli aretini hanno un cuore grande, lo dimostrano ogni volta che Casa Teveni fa qualcosa e ricordiamocelo che non lo fa per Casa Teveni quanto appunto per queste ragazze che hanno una seconda possibilità, qualcuna anche una terza e spesso obiettivamente ci riusciamo e siamo tutti ben felici. Grazie. 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 Grazie.